Battuta dalla bandierina è proprio a su cura, mettere dentro. Siamo al diciassettesimo del primo tempo, 1-0 per l'Inter. E Capello gioca la carta delle tre punte con Montella per Rinaldi. Ma è l'Inter che viene ancora in avanti ed è Recoba che trova il sinistro per il 2-0 sul suggerimento di Gresco.